Ovunque sei la pizza che vuoi. 1863-2021, il teatro festeggia un importantissimo anniversario e lo fa in grande stile. Oggi arriva a Fano il sipaglio del Teatro della Fortuna di Francesco Grandi. Volevamo ricordarlo alla città perché non l'abbiamo mai fatto, anche perché il sipaglio da un po' di tempo lo potete vedere sempre. Prima o quando ci sono gli spettacoli è alzato perché non si vede, per cui tutto il mese di agosto sarà visitabile sia nelle domeniche che con prenotazioni. L'altra cosa che oggi facciamo vedere a tutta la città e non solo è il tour virtuale del teatro. Cioè uno arriva, si mette in sala o nei palchi e invece da oggi avrete la possibilità di girare in tutte le parti anche più particolari come il gratticciato oppure i stessi luoghi dietro il sipario che di solito sono con scenografie. Poi il 24 agosto, lo annunciamo oggi, poi ci sarà nel dettaglio un programma nelle prossime settimane, la grande festa del teatro perché il 24 agosto del 1863 il teatro della Fortuna riapre i battenti e tutta la città può vedere questo sipario di Francesco Grandi. Una grande festa. Un teatro che si trasferisce anche nel digitale attraverso questo tour virtuale ma soprattutto anche attraverso la digitalizzazione del grande sipario. Un progetto ambizioso, complesso ma sicuramente all'avanguardia. Sì, assolutamente sì. Oggi il digitale ci permette di vedere una bellezza, io dico inusitata, che i nostri occhi a volte non vedono neanche nei luoghi in cui si trovano. Abbiamo fatto la digitalizzazione di questo sipario creando un documento davvero straordinario dove è possibile vedere qualunque dettaglio ad altissima definizione e quindi godere pienamente sia della bellezza ma anche, come dire, della possibilità di conoscere questo sipario. Questo sipario è stato inserito anche all'interno di un virtual tour che viene presentato, quindi sarà possibile da casa entrare dentro il teatro, vedere, vedere la sua architettura, vedere la cave, vedere i foyer e appunto avere questa prima, diciamo, interazione con il sipario. E poi col tempo questo virtual tour potrà e dovrà arricchirsi di tante ulteriori possibilità che renderanno appunto sempre più emozionante e coinvolgente questa visita virtuale. Sì, proprio in questo giorno arrivò il sipario a Fano e nella corrispondenza del sindaco di allora si manifestava la soddisfazione per questo arrivo e potrei dire che nella corrispondenza del sindaco di oggi c'è la stessa soddisfazione di vedere ancora quel sipario in questo straordinario palco del Teatro della Fortuna. Un teatro, un sipario come quello del Grandi racconta un po' la storia attraverso le immagini che possiamo vedere della nostra città. Un teatro non solo racconta una storia ma racconta anche quella che è l'evoluzione sociale, testimonianze che fanno capire quello che è stato il vissuto di una città, di un territorio come il nostro. Quindi sono patrimoni culturali straordinariamente importanti che ci dimostrano che questo teatro con questo sipario ha radici profonde ma che nello stesso tempo ci proiettano verso un futuro sempre più glorioso. Oggi si è presentato anche questo tour virtuale del teatro. È chiaro che un tour virtuale non è mai emozionante come entrare fisicamente in un teatro ma ci consente di vederlo e in alcuni casi ci consente magari di avere qualcosa in più e cioè anche guardare e cogliere quei particolari che magari a viso nudo all'interno di un teatro non si vedrebbero. Ovunque sei la pizza che vuoi.